Ok, ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, siamo in attesa, abbiamo avuto qualche problemino tecnico e siamo in attesa che Massimiliano Caputo si colleghi con noi. Massimiliano è un calciatore che ha giocato nel Livingstone nella stagione 2001-2002, ovvero la stagione più importante e migliore della storia del Livingstone, possiamo tranquillamente dire, terzo posto in Scottish Premier League, all'epoca si chiamava così, il piazzamento che non è mai più stato replicato. Dovrebbe esserci, dovrebbe essere arrivato, lì ho giocato solo quella stagione. Ciao Max! Ciao, ciao a tutti! Ciao! Come stai? Bene, bene, grazie a voi? Bene, è una situazione un po' difficile. Un po' particolare. Come la stai vivendo tu questa situazione? Ma la sto vivendo un po' come tutti, dai, siamo chiusi in casa, purtroppo sperando che tutto questo passi il più presto possibile, dai, che sennò è dura. È dura, è dura, è dura. Senti, parlando di una cosa sicuramente meno importante rispetto alla situazione della salute generale, ma parlando di calcio, tu come vedi la situazione calcistica attuale? Cioè, se ne parla tanto, ci sono molte polemiche, ma qualora non ci fosse la possibilità di terminare i campionati, no? Che è la cosa che tutti un po' si auspicano. Sei a favore dell'annullamento del campionato, oppure cristallizzeresti la classifica e daresti i titoli, promozioni, le processioni in base a classifica attuale? Oppure, la cosa che è venuta fuori adesso, terminare in qualsiasi modo la stagione, anche a costo di arrivare a settembre-ottobre? Ma guarda, io credo una cosa. Io credo che la stagione, a mio parere, debba terminare. Debba terminare per un semplice motivo, perché i campionati di calcio, il cuore del campionato di calcio è aprile-maggio, è metà-marzo, quindi se tu non fai giocare questi mesi, perché magari i primi caldi o così, secondo me è inutile assegnare lo scudetto adesso. Va giocato, vanno giocate tutte le partite, magari anche due settimane, per il valore che poi fondamentalmente ha quest'anno calcistico, che secondo me non ha valore, purtroppo. Lo si finisce solo un po' per, non so, per Sky, gli sponsor, i diritti TV, ma fondamentalmente calcisticamente non ha più valore. Certo, sono perfettamente d'accordo con te. L'unica cosa che mi sento di dire è che secondo me il campionato di calcio dovrebbe terminare, ma per il calcio stesso, perché non terminandolo i club andrebbero addirittura in maggiore difficoltà. Quindi è ovvio che ripeto che è una cosa secondaria, però... Sì, 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 per un fatto anche, ripeto, di diritti TV, posti Champions, retrocessioni, anche perché se no, se non lo fai giocare l'anno prossimo ti tocca fare un campionato con due squadre in più, tre squadre in più per la Serie B, perché il Benevento che ha già vinto il campionato con venti giornate d'anticipo, che fai? Non me lo mandi in A? Ma me lo fai fare un altro anno di Serie B? Quindi va terminato, un po' così, ma va terminato. Visto che non si giocano più gli europei, possiamo tirarla anche fino a inizi luglio in questo momento. Anche perché nessuna squadra che dovrebbe retrocedere a tavolino accetterebbe mai la retrocessione, quindi sarebbe tribunali più chissà per quanti mesi. Si fa una cosa all'italiana, come al solito, tribunali, sentenze, si arriva a Natale che non è ancora deciso. Assolutamente. Quindi non si può, purtroppo anche per questo fatto a livello giuridico noi siamo sempre un po' lenti e quindi preferisco secondo me arrivare piuttosto a settembre piuttosto che farlo finire così. Certo. Però lo scudetto io lo darei all'Atalanta. Per quello che stanno facendo e per quello che sta subendo la città sarebbe doveroso. Per tutte le due cose, sì. Per la città, per questi morti che hanno subito e per onestamente per il calcio che ha espresso fino adesso. Assolutamente d'accordo. Senti, tu sei napoletano ma ti sei trasferito giovane a Brescia. È stato difficile allontanarsi dalla propria famiglia all'epoca? Come no, come no. Io sono partito da solo, ricordo che avevo solo i 11 anni, quindi diciamo che ero un bambino molto molto piccolo. Era tutto difficile perché una mentalità diversa, una città diversa, orari diversi, ambienti diversi, tutto un altro mondo. È stato difficile però secondo me la mia età mi ha aiutato molto perché ero secondo me talmente piccolo che dovevo ancora fare tante cose e le ho fatte tutte là. Ecco, se fossi partito magari a 17-18 anni sarebbe diverso. Sicuramente diverso. Senti, che cosa ha rappresentato Brescia come città e il Brescia per la tua vita? Sia per la tua vita da calciatore ma anche come uomo. Sì, guarda, io devo molto, tanto, tantissimo a Brescia sia calcisticamente che umanamente. Calcisticamente perché mi hanno insegnato tante cose di calcio perché quando fai un settore giovanile così importante all'epoca, tra i più importanti d'Italia, ti restano cose che ad oggi le ricordi ancora. Io ho giocato con Baronio qualche anno fa all'Atletico Roma e io e lui che abbiamo fatto lo stesso settore giovanile e abbiamo avuto un allenatore in particolare che si chiamava Roberto Clerici. Io avevo 11 anni, lui ne aveva 13 o 14, praticamente sapevamo a memoria tutti i discorsi fatti 20-25 anni prima. Quindi ti lascio immaginare che calcisticamente ti inculcano cose che secondo me ha il Brescia, Atalanta e altre società che il 90% delle società italiane non te lo fanno. E poi per quanto riguarda umanamente, umanamente poi sai, ripeto, come ho detto prima, sono un'altra vita, altre regole, altre cose, quindi ti devi adattare in fretta se vuoi, sono cascato, ti devi adattare in fretta se ti vuoi abituare bene, ecco, tutto qua. Certo. Con il Brescia hai debuttato anche in prima squadra, momentaneamente prima della Scozia in Serie B, poi dal ritorno anche in Serie A. Senti, nel 2001 arriva, quindi avevi 21 anni, giusto? Perché tu sei un 80. Arriva la chiamata Dan Livingston, squadra più promossa per la prima volta nella sua storia in Premier League. E come mai hai scelto la Scozia? Allora, avevo 20 anni perché noi siamo partiti a giugno, a settembre compivo 21 anni. Diciamo che il direttore del Brescia Calcio, Gianluca Nani, era un uomo abbastanza importante fra l'Inghilterra e Scozia e mi disse se volevo fare questa esperienza calcistica, però gli dovevo promettere che dovevo restare solo un anno. E io dissi, va bene, perché lui mi disse, sai, se no poi il Brescia non mi vede di buon occhio perché pensa che i suoi giocatori li voglio mandare all'estero, eccetera, eccetera. E io dissi, va bene, facciamo questa esperienza così, di questo anno, per poi ritornare a Brescia e vedere come va. Siamo partiti a giugno, a giugno perché loro partono molto prima, perché il 4 agosto iniziava il campionato, quindi siamo partiti a giugno. Io non sono andato in vacanza perché avevo già prenotato le vacanze e la società mi chiamò e mi disse, vattene in vacanza, dopo le vacanze vieni. E io però ho ritenuto che non era, era poco professionale, sono dovuto partire con loro in vacanza, ho preferito, tra cui le vacanze ad Amsterdam, quindi figurati non è che un po' particolari. E quindi è così, sono rimasto là, abbiamo iniziato questa avventura, mi fecero una festa, guarda, pazzesca. Io amo la Scozia perché ho ricordi solo belli. Mi hanno fatto questa festa a Lilton, me lo ricordo benissimo, di Glasgow, una festa sorpresa, tutta la società, duecento persone. Io poi, che non ero nessuno, tuttora non sono nessuno, però mi guardavo tutti questi che mi facevano i complimenti, non sapevo nemmeno per cosa, visto che non avevo nemmeno toccato una volta la palla, quindi tu puoi immaginare un ragazzo come possa sentirsi. Assolutamente. Senti, allora, Napoli, Brescia, Livingstone, la Scozia, continui a sentire l'attitudine. Com'è stato il tuo ambientamento in Scozia? Cioè, il tuo impatto, perché noi scherziamo, c'è differenza tra Napoli e Brescia, tra Brescia e la Scozia c'è veramente un altro pianeta. Ti parlo di tempo, tempo, anche la cucina. Allora, io i primi cinque giorni, sei giorni, una settimana, sono stato a Livingstone. Praticamente, non ti nascondo, ho pianto cinque giorni su sette. Poi l'allenatore, il secondo allenatore, che era John Robertson, una leggenda degli arts, credo che è il cannoniere più prolifico degli arts, mi disse, guarda, Massimiliano, non è così. Io in settimana ti porto a Edimburgo, ti faccio vedere, ti faccio conoscere degli italiani, ti faccio ambientare bene, non ti preoccupare, perché io gli dissi, guardi, mister, io settimana prossima prenoto il biglietto e me ne vado a casa, perché non sto bene, dico la verità. E lui disse, guarda, facciamo una cosa, andiamo a vedere un po' la città. Ti faccio conoscere degli italiani, perché poi non parlavo inglese, nemmeno l'italiano all'epoca, figurati. Quindi, poi giorno dopo giorno mi portò in questo ristorante, il Bar Roma, Edimburgo, non so se c'è ancora, un ristorante dove c'erano circa una trentina di camerieri italiani, è nata un po' lì tutta la cosa. Poi io sono stato fortunato perché sei mesi prima io ho giocato con il mio caro amico Stefano Salvatori e quindi lui poi venne e disse, sto arrivando, aspettami, e siamo stati un po' di tempo insieme, quindi lui mi ha fatto scoprire i primi giorni quella Scozia, nascosta diciamo, quindi mi sono innamorato dopo dieci giorni della Scozia. E poi ti posso assicurare che un anno non sono più venuto via, mai andato in Italia, tranne una volta purtroppo. E l'inverno com'era come temperatura? Ma io mi dicevano che ho beccato freddo, freddo sicuramente, però ho beccato uno degli inverni più caldi all'epoca. Non so cosa vorresti, mi sono congelato, ti dico la verità, però mi dicevano che ero stato abbastanza fortunato. E beh, perché quando uno va in Scozia la differenza di temperatura la sente subito. E come l'accoglienza degli scozzesi? Gli scozzesi sono riconosciuti come essere un popolo discreto, ma allo stesso tempo accogliente, sei d'accordo? Sì, sì, sì. Ma io, guarda, io reputo gli scozzesi un popolo, ma molto accogliente. Guarda, loro stanno sulle sue, però dopo basta poco per far sì che, diciamo, hanno un calore, un grandissimo calore. Noi, ripeto, come hai detto tu, facciamo un anno calcistico strepitoso. Abbiamo perso pochissime partite. E quindi loro venivano sempre a vederci, ma anche negli allenamenti. Perché là è difficile che dei tifosi vadano a vedere gli allenamenti scozzi o così. Invece noi avevamo sempre un pubblico molto, molto ampio anche durante gli allenamenti. Cosa positiva. Quindi giochi in Scottish Premier League. All'epoca adesso si chiama Scottish Premier League. Vabbè, è cambiato relativamente poco. Cosa hai notato di differenze sia nelle partite che negli allenamenti rispetto all'Italia? Allora, là io ho delle difficoltà perché io sono un giocatore, diciamo, basso, tecnico. Là sono alti e fisici. Praticamente all'inizio era un po' dura, nel senso che non riuscivo, anche perché noi siamo abituati su alcuni falli a fermarci, a aspettare che l'abito in quel momento ci fischi la punizione. Ecco, invece là è completamente diverso. Poi anche gli allenamenti. Là fanno gli allenamenti all'epoca, parliamo di vent'anni fa, non so, magari adesso sono cambiate. Però noi facevamo pochissima palestra, per esempio, e tutti allenamenti sulla corsa, fisici, contrasti, uno contro uno. Però ti devo dire una cosa. Guarda, io poi alla lunga, dopo un anno di calcio, sono ritornato in Italia e fisicamente, nonostante non facevo la palestra che facevo in Italia, stavo molto meglio degli altri. Una cosa strana però è così. Ma poi è cambiato sia il calcio che il modo di allenare. Ma il lavoro senza la palla ne facevate tanto? No, no, noi ne facevamo tanto. Noi addirittura all'epoca corravamo nei parchi, perché spesso andavamo a correre nei parchi, facevamo degli allenamenti fisici e poi dopo la cosa con la palla facevamo molte partite fondamentalmente, che è la cosa più importante. Però specificamente tattica, diciamo come ossessionata come in Italia non se ne facevamo. È quello che mi chiedevo io, no? Venendo da una scuola che noi già a 15 anni, 16 anni, a Brescia, Atalanta, tatticamente sono quasi perfetti, quasi, e là invece è un po' tutto al momento, no? Situazionale. Questo me lo chiedevo io e poi anche quello che fa la differenza tra Rangers e Celtic con le altre squadre fondamentalmente. Certo. Questa secondo me è la spiegazione del fatto che soprattutto in Inghilterra e in Scozia sono un po' più conservatori, ma in Inghilterra adesso la stragrande maggioranza degli allenatori che sono in Premier League sono tutti latini o comunque al di fuori perché tatticamente loro hanno sempre storicamente curato poco e si sono accorti in ultimi anni che probabilmente è la svolta quella di allenare. Ma il segreto è quello là, io a volte mi, anche perché io avevo delle difficoltà inizialmente in campo perché io prendevo spesso palla a tre quarti di campo, mi giravo e cercavo la palla in profondità per far segnare l'attaccante, invece l'attaccante mi guardava fermo, no? Come per dire non me la devi dare a me, gliela devi dare a quello sulla fascia che poi mette il cross. Io gli dicevo ma guarda che facciamo così che noi andiamo prima in porta. E loro dicevo no, 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 fai così che poi noi andiamo allo scontro di testa. E diceva vabbè, fai come vuoi. La cosa che mi ha sempre impressionato soprattutto della Scott è la pochissima tutela che hanno i portieri. Cioè c'è un cross, la palla arriva al portiere, l'attaccante lo carica a duemila all'ora, gol, e non fischiano, cioè fischiano una volta su cinque. È vero, è vero. Anche, pensa che nei calcio d'angoli quando giocavo io ero quello che doveva stare davanti al portiere. Pensa un po', ho apprezzato tante di quelle, di quelle gomitate, però era il mio ruolo perché era un po' in aria, contavo poco in aria diciamo. Mi hai parlato prima, sei tornato in Italia poi e fisicamente ti sentivi bene, probabilmente questo era dovuto al fatto che in Scozia i ritmi partita sono molto molto più elevati rispetto a che l'Italia è più allenata da questo punto di vista. Senti, ti dico una data è una partita. 9 ottobre 2001, Aberdeen 1, Livingstone 6. Scoti di Cup. Cosa ti ricordi per la partita? Io feci due gol, me lo ricordo bene. Fu una partita quasi storica perché Aberdeen è una delle squadre più forti, a parte le due che fanno un altro campionato storicamente tra le più importanti di Scozia. Quindi noi andavamo lì, noi eravamo sempre la Cenerentola, molti si aspettavano che noi prendavamo tanti gol in tutti i campi della Scozia. Invece facemmo questa partita strepitosa, vinci anche se non sbaglio il Man of the Match, adesso non ricordo, credo di sì, e feci due gol abbastanza belli e facemmo questa partita. Dopo Celtic e Rangers, l'Aberding è quella che ha vinto di più in Scozia, quindi giustamente dici una delle squadre storiche della Scozia. In quella stagione, ok, quella stagione è la stagione dove il Livingstone ha ottenuto il suo miglior piazzamento in campionato, perché il terzo posto alle spalle di Celtic e Rangers è tuttora ineguagliato. Tra l'altro quest'anno al momento della sospensione il Livingstone era quinto, ma storicamente il Livingstone è una squadra che lotta per non retrocedere. Quell'anno siete arrivati terzi e vi siete qualificati per la Coppa UEFA dell'anno successivo. Qual erano secondo te, a parte Caputo, i giocatori più forti di quella squadra? No, noi avevamo, secondo me, una squadra molto forte. Avevamo quattro spagnoli, tra cui il portiere mio caro amico Javier Sanchez Broto, che poi l'anno dopo andò al Celtic, se non sbaglio, e David Fernandez, un numero dieci molto molto forte, che andò al Celtic anche lui. Poi avevamo, secondo me, un paio di centrocampisti molto forti e quindi diciamo che la differenza la facevano più o meno loro. Poi noi facevamo, ripeto, un campionato strepitoso perché vincevamo con 3-4 a 0 anche fuori casa, in casa degli Arts. Per esempio abbiamo vinto, mi sembra, 3-4 a 0, 4-1. Adesso non ricordo. Però diciamo che noi facevamo delle vittorie abbastanza ampie, giocando anche bene, quindi ci siamo divertiti e abbiamo divertito molto. Abbiamo pareggiato in casa dei Rangers alla seconda di campionato, quindi poi abbiamo vinto in casa nostra con i Rangers, quindi non era facile da incontrarci. Ecco, quello sì. Mi pare ci fosse, mi ricordo bravo, Barry Wilson, che era un centrocampista scozzese. Esatto. Poi avevamo Francisco Kino, un centrocampista spagnolo molto forte, che era... Poi c'avevamo il capitano, mi sembra, che era scozzese. Stuart Lovell, non so chi. Stuart Lovell, bravo, bravo, sì, 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 come no, come no. Stuart anche, sì. Comunque eravamo un insieme, secondo me... Buono. Buono, che purtroppo l'anno dopo si è un po' sbaccato tutto, perché se ne sono andati un po' via tutto e quindi non sono andati bene. Il dipensore, c'era anche il dipensore di Trinidad, che era... Marwin. Lui era proprio bravo. Il capocione, lo chiamavo io. Marwin era proprio fisicamente era... Ma una bestia. Una bestia, una bestia. Senti, è del manager Jim Leishman? Cosa mi dici? Ma guarda, lui parlava... Erano in tre, ti dico la verità, c'era Jim Leishman, poi c'era un altro, che non mi ricordo il nome, e John Robertson, che era l'altro allenatore. Guarda, lui parlava molto poco, secondo me, cioè, secondo me, parlava poco negli spogliatori, poi io non è che capivo molto. Dopo si metteva da parte e mi faceva capire qualche movimento e qualche cosa. Però, secondo me, è stata una persona, una splendida persona, perché personalmente mi ha fatto capire tante cose, mi ha coccolato come un figlio, sia lui e sia il presidente. Ecco, io me li ricordo benissimo, quindi sono stato, ripeto, molto molto bene. L'avevo un po' perso di vista, sono andato a cercarmi su Wikipedia e lui adesso è al Dan Firmline, che fa responsabile, non so bene che cosa... Chi, chi? Leishman. Ah, ok, perfetto. E Roberson, invece? E Roberson, non lo so, sono d'accordo con te che è la leggenda degli arts. Cioè, quando un tifoso degli arts ti dice, delle leggende, tu sai già che stai parlando di Giorno Lomers, ma questa è un'attaccante che ha fatto, non so quanti gol, sicuramente sopra i 100. Sì, no, tantissimi gol ha fatto, tantissimi gol, sì. Portissimo, portissimo. Noi facevamo una gara di tiro in porta, chi perdeva portava il tè nella stanza all'altro, vabbè, mi sono divertito molto, dai, con lui. Era già sintetico il campo? Come? No, 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 era in erba. Era in erba, perché adesso è diventato sintetico. Ah, eppure era un campo fantastico, un erba fantastico. Secondo me lo fanno per, secondo me sicuramente così, lo fanno per ridurre i costi anche di gestione club, perché c'è un paio, uno è Livistone e uno è Kilmarnock, che però sono quindi, però ci sono molte lamentere delle altre squadre quando vanno a giocare da loro, perché dicono che i giocatori sono più propensi a infortunarsi sul sintetico, perché non sono neanche abituati, oltre a essere più duri. È anche un po' più faticoso, sì. Senti, tu sei un attaccante, visto che stiamo parlando di attaccanti, ok, io ti faccio una domanda secca, visto che erano i due attaccanti più importanti dell'epoca in Scozia. Enric Larson o Tore Andre Flo? Chi ti piaceva di più di due? No, Larson tutta la vita. Larson era un'altra cosa, dai, un'altra categoria secondo me. Poi fece, mi sembra, 50 gol quell'anno, una roba del genere. Guarda, era una trentina sicuri, più ciumi di tutte le coppe. Sì, arrivò a 43, 44, una roba del genere. Mi sono sempre chiesto come mai Eric Larson è rimasto così tanto tempo al Celtic, perché è verissimo Celtic, squadra storica, poi lotti ogni anno per vincere il titolo, il pubblico meraviglioso, però alla fine uno come lui avrebbe forse potuto fare una carriera probabilmente in un club importante, senza nulla togliere il Celtic. Infatti, quando lui si è svincolato del contratto, è andato subito al Barcellona. Lui ha fatto due anni al Barcellona, dove ha vinto anche la Champions League, il finale contro l'Arsenal, se non sbaglio. E quindi mi sono sempre chiesto, ma questo, che faceva una 50 gol a stagione, come ha fatto ai miei cosiddetti anni? Secondo me è solo e puro questione di affetto nei confronti del club, nei confronti dei tifosi ed è nodevole da parte di un giocatore. Guarda, ti racconto una cosa, secondo me, il perché lui è rimasto. Se io non avevo una parola o un accordo con il Brescia, io personalmente sarei rimasto in Scozia per 10-15 anni. Non mi interessava di andare a Brescia per poi andare, non lo so, a Napoli, all'Inter. No. Io volevo rimanere solo in Scozia. Perché? Perché io sono ambientato benissimo e amavo il posto. Poi avevo anche qualche Laberdine, per esempio, che mi voleva, avevo un'altra squadra ancora che mi voleva. Però, purtroppo, è così e io posso capire Lars, lo posso capire. Io personalmente sarei rimasto 10-15 anni. Sì, sì. È importante quello che stai dicendo, anche perché poi la tua carriera, purtroppo, si è sviluppata in Serie C, una volta che sei tornato a casa, con buoni risultati. Poi ci fossi rimasto in Scozia, visto che comunque in un molto buon listo, avevi fatto 20-25 presenze, compresi anche la Coppa. Quindi eri quasi un titolare. E poi, tornato in Italia, tra virgolette, hai dovuto accontentare. Perché c'è il C, purtroppo, per te, penso. No, ma io, diciamo che io stavo ritornando là. Poi è successo un episodio che è un po' particolare, nel senso che durante una partita amichevole di precampionato, tra Brescia e Sampdoria, Tony, Luca Tony, si è rotto il ginocchio. Siccome era fine agosto, fine agosto, quindi Brescia non poteva più, diciamo, acquistare nessuno, perché a livello economico, e quindi decisero di non far partire me, tutto qua. Purtroppo lì fu una decisione di mazzone, io dovevo stare perché fu così. Se no io ero tornato là. Peccato. Questo è il punto. Peccato. Senti, a parte i due attaccanti di cui abbiamo appena parlato, c'è un calciatore che ti è rimasto impresso per la sua bravura in Scozia, in quel campionato? Ma guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori forti, perché poi dopo si sono rilevati tali, perché per esempio lì Bernian aveva della Cruz, io me lo ricordo benissimo, che era un giocatore fortissimo. Poi dopo andò all'Aston Villa, però quando tu li incontri in campo dici questo è bravo. Poi per dirti i Rangers, c'aveva una marea di campioni, pur non vincendo il campionato, c'aveva Caneggia, Flo, i fratelli De Boer, Ferguson, chi più ne ha, Canceschi sulla fascia, chi più ne ha più ne metta. Quindi diciamo che di giocatori qualche squadra le aveva. Io credo che quell'anno il migliore, secondo me, a parte Larson, qui lì è stato proprio Fernandez e il nostro portiere. Sono stati due, secondo me, due pilastri. Beh, comunque tu giustamente, secondo me hai scelto Larson tra i due, però Flo è stato l'acquisto di una squadra scozzese più oneroso fino agli ultimi acquisti del Celtic, Eduard, lo scorso anno. Quindi insomma, stai parlando comunque di cacciatori, però insomma Flo ha fatto bene ovunque è andato. Senti, hai giocato a Almond Vale, che è lo stadio del Livingston. Ti piaceva l'atmosfera che c'era in quello stadio? Allora, io amavo l'atmosfera, anche perché io sono un tipo anche molto, come si dice, che parlo molto con gli altri e tutto quanto. Quindi io ogni volta che entravo, per esempio, c'avevo una bambina che stava sulla sedia a rotelle, io amavo che prima della partita, che entravo dal primo minuto o entravo dopo, scambiare magari due chiacchiere con lei. Ecco, io lo facevo tutti i sabati. Quindi queste cose qui per me erano nuove ed erano meravigliose. Certo. E il clima era bello, no? Tipo il Gifo, sì. Sì, era bellissimo. Anche perché noi non avevamo, diciamo che la maggior parte, noi avevamo tipo 10-12 mila spettatori faceva lo stadio all'epoca, non so se è cambiato. Sì, sì. E quindi poi quando giochi contro alcune squadre, diciamo che è diviso a metà, facciamo metà per uno, perché loro si spostano, i scozzesi si spostano sempre in massa. Poi noi facevamo qui 6-7 mila, gli altri 5 mila glieli davamo ai Rangers, ai Celtic, ai Arts, ai Bernier. Però era uno... No, è un po' cambiata la situazione, ti dico, il Livingstone, perché il Livingstone, come sai, è una new town, no? È stata fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale, in un un soporgo di Edimburgo. Quindi probabilmente quello lì era il primo campionato del Livingstone in Premier League, c'era molto entusiasmo e la media spettatori era alta. Probabilmente il fatto che comunque non c'è un fortissimo legame con la squadra, perché la squadra giocava a Edimburgo fino al 95, poi si trasferita a Livingstone. Probabilmente quest'anno il Livingstone ha giocato con la tribuna centrale per i suoi tifosi e tutto il resto dello stadio era data ai Celtic e Rangers che la limpivano. Quindi è un po' cambiata la situazione. Tu, cosa hai notato del legame che c'è tra il Livingstone e la squadra, cioè tra la città di Livingstone e il Livingstone? Ma guarda, io diciamo che noi, prendendo sempre spunto dalla mia esperienza di quell'anno lì, noi quell'anno andavamo al centro commerciale, c'è un centro commerciale là, me lo ricordo bene, c'era un ottimo legame, perché noi avevamo tantissimi tifosi fuori che ci aspettavano, ora credo, non lo so, però avevamo tantissimi giornaletti che dovevamo firmare, sciarpe, magliette, forse anche l'andamento che stavamo avendo, perché ripeto, vincevamo quasi tutte le partite in casa e fuori casa, quindi c'è stato un po' che la gente era curiosa di vederci e si è appassionata, quello è stato importante secondo me. E senti, cos'hai provato a giocare a Celtic Park e a Ibrox? Eh guarda, io è stata una, anche con i Rangers e poi è anche una partita dove venne la mia famiglia a vedermi, ci fu questa coincidenza che io giocai quasi tutta la partita, una volta, e l'altra volta giocai pochi minuti mi sembra. Guarda, tu immaginati un ragazzo di vent'anni che entra in uno stadio del genere, perché noi in Italia non siamo abituati adesso, figurati nel 2002, nel 2001. Uno stadio, mio papà aveva una telecamera che voleva riprendere il figlio mentre giocavo così, vennero subito gli Stewart dicendo qua non si può registrare, cosa stai facendo? Eh lui disse, scusami ma noi non siamo abituati a questo, capito? Però diciamo che sono emozioni pazzesche. Poi il Celtic, la quint'ultima partita prima che finisse il campionato, se vinceva contro di noi, vinceva il campionato. Quindi era matematicamente campionato e quindi ci fu un'atmosfera quando andammo noi strepitosa e vabbè, vincerò il campionato. Vincere il campionato, insomma. Tu devi visti anche la festa che non è da tutti i giorni. E a parte questi due stadi che ovviamente per numero dei tifosi sono probabilmente dove c'è l'atmosfera migliore. C'è uno stadio particolare dove ti è piaciuto giocare, dove sei rimasto impressionato dall'atmosfera? Allora io ho amato tutti gli stadi, ti dico la verità. Anche a Aberdeen che è uno stadio molto bello e a Dundee mi è piaciuto molto. I Dundee, all'epoca i Dundee degli italiani erano. Però io mi ricordo che il Modern World che aveva lo stadio storto mi sembra. È quello lì. Come? Sì, sì. Allo stadio è storto. È tutto storto. Io non ci volevo credere, cazzo, ma scusate. No, no. Ma non ci volevo credere. Io dicevo col mio amico spagnolo, dicevo, ma non lo vedi storto sto campo? Ma lui diceva, ma cosa vuoi che il portiere poi mi diceva, ma tu non stai bene. Guarda che è storto sto campo. E poi alla fine partita andammo là e era effettivamente storto, ma di tanto anche. È in discesa così. Guarda che è una cosa incredibile. Un'altra caratteristica strepitosa di quello stadio è che alla tribuna centrale manca un pezzo. Quel pezzo le manca perché il proprietario della casa dietro lo stadio ha fatto causa ai club perché diceva che a causa della tribuna lui non aveva quasi mai la luce solare nella sua casa. Quindi perdono. Hanno dovuto tagliare la tribuna, hanno tolto un pezzo. È una cosa che mi... È fantastico. È un mondo fantastico. Veramente incredibile. Senti, che cosa ti ha lasciato la Scozia al tuo ritorno, insomma, sia come cacciatore che come uomo? Qualcosa che hai imparato, diciamo, dalla Scozia? Allora, io ho imparato... Guarda, la Scozia, credimi, credimi, ce l'ho nel cuore. Io con mia moglie spesso parliamo che sono due o tre anni che voglio andarci di nuovo, voglio portare, voglio fargliela visitare perché chiunque, secondo me, debba andare in Scozia. La Scozia è affascinante. E come uomo mi ha rimasto che... Cioè, mi ha lasciato che secondo me io da allora non mi sono più buttato in aria. È una cosa, guarda, tu dici che sembra una stupidaggine ma invece io ho apprezzato molto. Io ho fatto... È successo qualche situazione in campo che i miei compagni poi mi dicevano guarda Massimo, non devi fare così perché mi spiegavano tutte le cose e io dicevo va bene, farò... Però lui diceva ma ha toccato, no? È rigore, ma lui dice sì ma ti ha toccato però potevi rimanere in pieno. Quindi questo lo porto ancora dentro e secondo me a livello culturale qualsiasi giocatore debba fare un anno in Scozia. Concordo, concordo pienamente. C'è un attaccante dei Rangers, tu non so se segui un po', l'attaccante dei Rangers che è Morelos, che è un colombiano ed è un calciatore latino, insomma, secondo me è un ottimo attaccante. Poi ci sono quelli dei Celtic che dicono di no, ma per me è un buon attaccante, anzi è ottimo per la Scozia. E lui è comunque un mestrenante, è uno che si deve buttarsi, si butta. Infatti è un po' dietissimo. Non va bene, non va bene. Noi avevamo un altro giocatore così, il mio caro amico ed ex compagno di squadra del Brescia, Dario Aurelio, argentino. Lui era un esterno, ha fatto tre, quattro volte come eravamo abituati a fare, diciamo, dico la verità. Da lì non è stato più ben visto, per tutto l'anno, tutto l'anno. No, no, è così, la mentalità, proprio la cultura calcistica che hanno loro è ineguagliabile, secondo me. Mi hai parlato di Edimburgo prima, finato con John Robertson a Edimburgo. C'è un posto in Scozia che tu hai visitato, magari non tanto famoso, ma che ti è piaciuto tanto. Allora, guarda, noi avevamo, una volta facemmo quattro vittorie consecutive, cinque vittorie, la squadra ebbe un premio di due giorni in un castello un po' più vicino a Berdina, adesso non ricordo. c'era un castello. Infatti, era un castello con un campo da golf. Guarda, io sono rimasto, mi sono innamorato, perché loro come premio avevano avuto due giorni per giocare a golf gratis, pagava la società. Per me era inusuale, perché era una rottura di palle andare a giocare a golf. Purtroppo, però poi dopo... Hanno inventato il golf, Scott, quindi sono stati legati. No, ma infatti, infatti loro amavano, no? E mi dicevano, vieni a giocare a golf. E io dicevo, vabbè, comunque ho giocato anche un po' a golf e io sono stato innamorato di quel posto, perché era un castello praticamente, mi ha riportato indietro, penso, di quattro, cinquecento anni. Era una cosa fantastica. Quello è stato un posto piccolino che ho amato. E poi ho amato Edimburgo a trecentosessanta gradi, perché io in un anno intero non sono mai, mai andato a casa, anche quando potevo. Certo, certo, certo. Stai ancora seguendo le vicende del Livingstone, anche se comunque sai che è quasi fallito, è ripartito dai bassi fondi dall'ultima lega professionista scozzese e due anni fa è ritornato in Premiership. Se stai seguendo ancora il Livingstone, se stai seguendo ancora la Premiership, che idea ti sei fatto sul campionato così generale? No, io quest'anno ho dato un'occhiata. Io me lo ricordavo in Serie B, ti dico la verità. Poi invece quest'anno, verso ottobre-novembre, mi sono messo a guardare di una partita, se non sbaglio proprio Rangers-Celtic, vedi i derby, se non sbaglio, perché vinse i Rangers 2-1, mi sembra. E il dicembre? Eh, una roba del genere, sì, 2-1. Il giorno prima dell'ultimo dell'anno, il 30 dicembre. Eh, una roba, vedi così, quindi vedi il Livingstone che stava in Serie A, quindi non so se come società credo che siano cambiati tutti, però un giorno voglio andare a vedere, voglio andare di nuovo a visitare quel campo lì perché sono curioso e sono molto affezionato, sì. Eh, ci sta, ci sta. Beh, saresti sicuramente il benvenuto a Livingstone perché loro comunque si affezionano ai loro calciatori. Senti, dopo un anno purtroppo, insomma, l'hai detto anche tu, sei tornato in Italia e hai avuto, secondo me, delle esperienze comunque positive anche se in Serie C. Che cosa ti è rimasto della tua esperienza con il Sora, con la Juve Stabia e con il Catanzaro? Le prime due in C1 e Catanzaro in C2. Sì, no, guarda, beh, parlo di Catanzaro e Juve Stabia che sono state, secondo me, 4 anni, tre anni e mezzo fantastici perché feci tre, quattro campionati, tre campionati e mezzo bellissimi, ci siamo divertiti molto, la gente diciamo che mi apprezzava molto e questo quando tu te ne vai che la gente lascia un buon ricordo è fondamentale, no? È fondamentale perché vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. Assolutamente. Beh, sono comunque due piazze calcistiche importanti, ma ne hai avuta, secondo me, verso il finale di carriera una addirittura migliore perché hai vinto e da protagonista perché hai segnato diversi gol il campionato di Serie D con la Salernitana, la Salernitana che era fallita e poi si è ripartita la D e tu eri nella squadra che hai riportato la Salernitana tra i professionisti. Che ricordo hai? Diciamo che di Serie D c'era solo il nome della categoria, diciamo così perché poi noi penso che l'ultima partita che poi siamo stati promossi eravamo circa 13 o 14 mila spettatori, però è stato un campionato non facile, però avevamo un obbligo, secondo me obbligo morale di portare i tifosi e la città fuori da quel pantano perché poi si inizi a fare un anno, due anni, tre anni di Serie D, poi è difficile venirne fuori, ecco. L'importante è esserne venuto fuori subito. Assolutamente. Senti, hai preso il patentino di allenatore, ho letto in un articolo. Tu attualmente alleni o ti piacerebbe allenare? Sì, no, attualmente non alleno, ma diciamo che è stata una scelta mia per ora perché tutte le persone che a Napoli mi hanno chiesto di fare qualche cosa non mi è piaciuto l'atteggiamento. ecco, io mentalmente mi piacerebbe allenare i ragazzi, però crescerli, curarli, insegnare veramente magari le basi, indipendentemente dal risultato. Io non vedo la vittoria come prima soluzione nei ragazzi, ma vedo più un programma di crescita a lungo termine. Io la vedo così. Fin quando non trovo questo, secondo me, preferisco non allenare. Certo. Sento dei discorsi che fai, anche secondo me forse sei più orientato verso il settore giovanile che in una prima squadra, dove il risultato è l'unica cosa importante, anche a costo di buttare il pallone oltre la tribuna. Esatto. Perciò amo i ragazzi, magari sono quelli che tu, purtroppo, cioè fortunatamente sono stato insegnato così. Se insegni ai ragazzi dei 12-13 anni delle basi, loro anche a fine carriera se le ricorderanno ancora. Quello è fondamentale, io la penso così. No, no, sono d'accordissimo con te. Senti, ultima domanda. Che differenze vedi tra il calcio attuale e il calcio dei tuoi inizi, quindi verso la fine degli anni 90, inizio degli anni 2000? Fisicità, velocità, tecnica, tattica. Cosa vedi di differenza? Guarda, io appena... Ciao! No, non ti vedo, è il mio figlio. Ciao! Io dico una cosa, guarda, nel 1999-2000, quando io ho esordito, ad oggi, secondo me, il calcio italiano, personalmente, è diventato un po' più scarso, secondo me. Negli ultimi anni, secondo me, parlo di serie C, di serie B, negli anni inizi 2000 c'erano attaccanti e squadre in serie B, che ad oggi in serie A magari facevano metà classifica. Io credo che si è perso tutto questo, questo tasso tecnico che avevamo noi a discapito di altre cose, che poi abbiamo pagato a lungo termine. Io credo che adesso si stia ritornando un po' ad essere il calcio vecchio, perché abbiamo puntato più sulla fisicità che sulla tecnica. Quando l'Italia, secondo me, è stata sempre tatticamente perfetta e tecnicamente fortissima. Ora gli inglesi fanno da padrone perché fisicamente sono delle bestie, ma tecnicamente sono delle bestie ancora più forti di loro e quindi non c'è partita. Non so se siete d'accordo, ma secondo me stiamo esasperando la tattica in Italia per mascherare dei limiti tecnici. Certo, ma è un fatto normale. Perché quando tu non c'hai all'epoca, non so, il Baggio, signori, Bobovieri, Crespo, Zamorano, che dal cilindro ti tirano e ti fanno gol, una volta che non ce li hai, perché in Italia ce ne sono pochi, cosa fai? Butti tutto sulla tattica che cerchi di non prendere. Tu immaginati che il Brescia, per non retrocedere, all'epoca c'aveva Baggio, Toni, Tare in attacco. Tu immaginati il Brescia di oggi e fatti due conti. C'era anche Guardiola. C'era Guardiola, c'era Pia, c'era Bacchini, fratelli filippini, c'era Matusalem, c'era Petruzzi, Sereni in porta. C'è una squadra che oggi secondo me arriverebbe sesta, settima. Ah beh, sì, assolutamente. C'è Tonali adesso nel Brescia, no? Che è molto bravo. Ti piace Tonali? Sì, Tonali mi piace, anche Torregrossa mi piace. Però sai, da soli non danno quello che possono dare. Magari Tonali mettendolo nel Napoli o nella Juve diventa un altro giocatore. Dicono che possono andare alla Juve, lui secondo me è proprio da top club. Ma anche lo stesso Balotelli sarebbe fortissimo. Il problema è che il suo, probabilmente, carattere gli olimpics fare delle cose importanti in carriera. Ne ha fatti importanti, però in ultima settimana è fatto meno. Sì, però per dirti fra i due, faccio un esempio. Tonali è già da Juve mentalmente, capito? Allora loro, queste squadre qua, scelgono i giocatori, a parte come calcisticamente, ma anche mentalmente. Perché anche Miccoli era un fenomeno andato alla Juve e poi l'ha mandato via. Perché? Perché mentalmente non era da Juve, ecco. Purtroppo è così. Anche di Daio, è andato da Juve e poi... Perché i giocatori loro te li costruiscono soprattutto mentalmente, ecco. Perché poi a stare a certi livelli, a essere campione per tanti anni, devi avere una mentalità vincente. Se non ce l'hai, loro non ti scelgono. Massimiliano, mi ha fatto veramente tanto piacere averti con noi. Ho visto che anche i diversi utenti ci hanno ascoltato. Io metterò la nostra conversazione su YouTube e sicuramente la guarderanno in altri. Io ti auguro una buona Pasqua e mi auguro che questo periodo possa volgere al termine, nel minore tempo possibile, che possiamo parlare di calcio giocato attuale. Magari, speriamo presto. Dai ragazzi, buona Pasqua anche a voi e vi abbraccio forte. Anche io ti abbraccio. Ciao Massimiliano, buona serata. Ciao, buona serata. Bene, ragazzi. Ovviamente faccio i miei auguri di buona Pasqua anche a tutti voi. Vi ringrazio perché ho visto che anche stasera ci avete seguito in tanti. Vi dico, vi annuncio già che la prossima settimana avremo un altro ex calciatore che ha giocato in Scozia e forse due. Vedremo e vi tratteremo aggiornati sui nostri canali. Buona Pasqua a tutti ragazzi e buona serata. Ciao.